Sindaco, avete annunciato una conferenza stampa nella zona del bypass di Fiumefreddo, crede che sia necessario questo anche per dare seguito a queste polemiche che ci sono state? Le dico con molta sincerità, ma questo lo dico con franchezza. Io sono un amministratore, prima ancora di essere un sindaco, la differenza è sostanziale perché diamo con serietà risposte a tutte le esigenze. Fare una conferenza forse non era necessario perché non possiamo veramente inseguire articoli di stampa nulla togliendo il vostro lavoro preeciso e puntuale, ma forse ancora una volta come abbiamo fatto durante la conferenza di alcuni mesi fa è bene ribadire un concetto in base al quale non esiste un problema, non c'è neanche l'ipotesi che la città di Messina ceda acqua a qualche altra città, sia essa Taormina o chissà quale altra città, perché sappiamo essere responsabili. Vogliamo ancora una volta essere più precisi facendo vedere e toccare con mano quello che abbiamo già detto. Mi rendo conto che un periodo particolare non è una rassicurazione, ma è la certezza che i miei concittadini capiscano qual è la serietà del problema e qual è la serietà con la quale lo stiamo affrontando.